tg7 basilicata ci troviamo a margine del concerto di nino buonocore a moliterno davvero l'artista ci ha concesso questa intervista per i telespettatori di tg7 basilicata maestro veramente per me personalmente un onore incontrarla un piacere incontrarla ma anche ovviamente come giornalista rivolgerle alcune curiosità domande allora io partirei proprio da un po un escursus sulla sua carriera sono 40 anni e anche un po di più un po di più e poi anche il titolo di una sua canzone bellissima ecco nino buonocore sicuramente non è solamente scrivimi o rosanna stasera abbiamo visto sul palco inevitabilmente cantare queste che sono le sue canzoni simbolo poi ci dirà qual è il suo rapporto con queste canzoni ecco però appunto è tutto un viaggio il viaggio di un cantautore il viaggio di un autore di un poeta che si è misurato veramente in tutta la sua carriera sia col cantautorato ovviamente che col jazz stasera abbiamo visto veramente l'impalcatura delle sue canzoni che anche la contaminazione ma credo che sia un percorso quasi naturale perché le mie canzoni sin dall'inizio parte diciamo la prima era diciamo che era un pochino più rock perché comunque a 15 anni non si può essere non non rock diciamo non essere ribelli diciamo ecco poi durante diciamo la mia carriera però ho avuto modo di incontrare grandissimi musicisti questi musicisti prima o poi insomma in qualche maniera ti influenzano per cui mi sono avvicinato quasi naturalmente al jazz quasi diciamo per un po per gradi però poi alla fine ho capito che forse era il mio territorio più congeniale forse nel quale mi trovavo meglio non l'avevo mai capito prima però poi le mie canzoni piano piano si sono evolute in maniera tale che diciamo questo incontro è stato quasi diciamo naturale ricordiamo il grande incontro e la collaborazione con chat becker sì infatti io devo dire la quella 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 quelli quel che l'incontro chiamiamolo così vorrei chiamarlo in un altro modo ma è meglio chiamarlo incontro è stato quasi illuminante per me perché lui veniva da parigi avevo avevo contattato per fare un tentativo dice ma come va un mostro sacro così cosa vuoi che pensi della mia musica in realtà invece poi gli mandai dei brani e lui disse vabbè voglio incontrarci incontramo a roma rimasti cioè fu proprio un amore a prima vista come si può dire anche perché lui disse io non è che amo tanto il jazz lui disse confesso questo sì lui dicevamo la musica ecco la capiamo ste cose vabbè allora tutto sommato non è che poi la il jazz sia una parte della musica no e la musica e la musica perché la musica è tante cose tanti vestiti tanti modi di essere tanti modi di esprimersi e secondo me chat becker diciamo che racchiudeva proprio questo piccolo segreto e questo incontro veramente mi ha dato la possibilità di avvicinarmi sempre di più al jazz quindi è stato profetico assolutamente sì poi devo dire che non è stato l'unico perché dopo di lui sono arrivati anthony jackson sono arrivati altri musici rino zurzolo rino zurzolo per cui diciamo che è stato un avvicinamento graduale ma se vuoi io non direi neanche definitivo perché io ritengo che la musica sia sempre in evoluzione in continua evoluzione io non non posso giurare che continuerò a fare jazz come non posso giurare di tornare a fare pop musica leggera cioè non lo so perché la musica ti chiama cioè la musica ti indirizza ti in qualche maniera ti stimola sempre se tu riesci a farti stimolare forse puoi fare qualcosa di buono qualcosa di nuovo addirittura la musica un'eterna sorpresa è un po come una donna diciamo quando incontri la donna ideale fai un grande cammino e allora in questo caso se incontri se la musica hai la fortuna di incontrare la musica in un certo modo fai un grande percorso diciamo un parallelo veramente insomma calzante una curiosità insomma anche dal suo punto di vista il cantautorato che fine ha fatto il cantautorato oggi siamo a pezzi perché io credo che io vengo da una generazione in cui il cantatore era una figura importante una sorta di megafono l'ho anche detto stasera e mi dispiace che abbia che abbia finito questa che non abbia più questa funzione se noi pensiamo che una canzone un cantautore come pop dylan hanno cambiato il pensiero dei giovani di quel tempo ma non di proprio la storia direi la storia perché poi sai i movimenti studenteschi queste cose qua cioè io oggi non ne vedo cioè non vedo nessuna partecipazione diciamo dei giovani che poi sono i giovani che cambiano il mondo che cambiano le cose nel mondo ecco una volta c'era questa grande forza determinata dalla musica e dai grandi cantautori ho citato john lennon ma potrei citare john lennon scusa bob dylan ma potrei citare john lennon quindi voglio dire ce ne sono tanti altri ecco noi avevamo dei riferimenti dei riferimenti culturali che sono innanzitutto culturali ideologici ideologici cioè noi trattavamo la guerra in un certo modo cioè avevamo davvero dei valori da seguire ecco oggi mi spiace che ci sia un po smarrita questa funzione del cantautorato ecco questo è tutto speriamo di riprenderla posso chiederle una domanda forse di rito gliel'hanno fatta in tanti il suo rapporto forse odio amore con sanremo posso dire così guarda sanremo una volta sì io lo guardavo come un palco importante un palco importante dal punto di vista della carriera sai proprio della carriera oggi lo vedo sempre più lontano perché non mi interessa cioè nel senso che andare lì e avere la possibilità di esprimere la tua personalità c'è la tua forza artistica in quattro minuti per me è una limitazione orrenda cioè io non io onestamente voglio mettermi come dire in mostra su un palco su un palco dove io canto tutta il mio mondo dove posso cantare il mio mondo in tutte le sue spaccettature ma in quattro minuti è chiaro che poi i ragazzi vanno lì i ragazzi gli artisti vanno lì e fanno le delle canzonacce mentre in realtà magari nel disco poi che vanno a pubblicare sono canzoni molto più belle ecco questa è la trappola sanremo non mi piace diciamo il format sanremo non mi piace ecco un'ultima domanda davvero bene noi stasera veramente siamo stati avvolti da un'atmosfera intima grandi musicisti il successo si ripercorre veramente si percorre giorno per giorno si percorre veramente in serate come queste ed è davvero qualcosa che viene trasmesso anche a noi ma che cos'è il successo oggi per nino buonocore il successo e la soddisfazione di poter avere ancora voce per farsi ascoltare questo è tutto ancora diciamo qualcosa da dire il successo e scrivere ancora con lo stesso entusiasmo di 40 anni fa cose importanti cose belle cose che possono arrivare alla gente come possono non arrivare alla gente l'importante scrivere per se stessi io penso sempre una cosa dice lo scrittore il letterato che scrive un libro non lo scrive per il pubblico io credo lo scrive per se stesso ecco la musica bisogna tornare a scriverla per se stessi a quel punto sarai fortunato se la gente incontrerà cioè avrà la possibilità di condividere quello che tu scrivi però se vai tu verso la gente sbagli grazie in un buonocore per averci concesso questa bellissima intervista queste parole che veramente spero arrivino ma arriveranno certamente al pubblico a tutti grazie ciao a tutti e ciao ciao